Io vengo da una realtà che è quella milanese, che è molto diversa da quella del nord-est, intanto perché è una grande città, però poi arrivo qui e trovo una festa che dura 40 giorni e noi neanche ce la sogniamo una cosa del genere perché non riusciremo a tenerla in piedi mai. Quindi come primo approccio non so quanto abbia da dire in più rispetto a quello che potete già ragionare in proprio. Quello proverò insomma, proverò a dire qualcosa. Allora sì, noi abbiamo fatto anche un incontro non più tardi di un mese fa in cui abbiamo centrato il tema sul cosiddetto mantra della legalità. Tu l'hai chiamato il mantra della sicurezza, se non mi sbaglio, ma più o meno siamo nello stesso ambito. E cioè a dire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che è di carattere strutturale, non è un fenomeno che capita ogni tanto ma ormai è un fenomeno che fa parte della vita dell'Occidente a pieno titolo che la rappresenterà e che la traverserà per tutti i prossimi decenni a venire è un fenomeno che però ci viene continuamente riproposto come se fosse da una parte eccezionale e come se si potesse contenere. Ecco questo è un tema che mi è molto caro e cioè l'idea del contenimento che è l'unica idea che ci viene proposta in realtà. cioè non ci sono altre rappresentazioni se non quelle minoritarie ma la rappresentazione cardine è quella appunto della sicurezza e della legalità che poi tradotta in contenuti non è altro che una rappresentazione di contenimento cioè la volontà di fermare i migranti che si muovono. Questo in un altro è il contenuto politico che continuamente ci viene riproposto. Dall'altra parte a fronte di una rappresentazione molto chiara abbiamo poi invece un risultato che è contrario cioè a fronte di una volontà di fermare i soggetti, di bloccare i soggetti quindi una volontà di stoppaggio noi abbiamo invece una penetrazione continua dei migranti nel tessuto connettivo dell'Occidente, dell'Europa e questo non perché siano piene di falle i meccanismi di controllo ma perché le migrazioni non si fermano le migrazioni in qualche modo sono endemiche e nel lungo periodo sono già vincenti sono vincenti a prezzo e a costo molto alto i costi sono di morti noi parliamo di quasi 40.000 morti stimati nel Mediterraneo negli ultimi vent'anni ed è una stima e probabilmente è una stima anche a ribasso ma il fatto che le nostre società quelle occidentali e nostre sarebbe da mettere tra virgolette perché bisognerebbe capire di cosa parliamo siano già cambiate e siano già osmotiche rispetto alle migrazioni è un dato di fatto non è che forse succederà sta già succedendo a fronte di questo quello che ci viene rappresentato e purtroppo quello con cui ci si interfaccia continuamente è invece una cecità politica che nella migliore delle ipotesi è in buona fede nella peggiore delle ipotesi è in mala fede io credo che dopo vent'anni di una normativa in materia di immigrazione che è del 98 quindi siamo quasi a vent'anni che non funziona e che ha delle evidentissime errori interni è chiaro che non possiamo più concedere il dubbio della buona fede perché sarebbe forse eccessivo anche il politico più fesso si deve rendere conto e non può che rendersi conto che in questo momento le immigrazioni non sono regolate e non sono regolabili secondo quel meccanismo questo è un dato che è un dato di esperienza e questo è un dato importante perché è un dato oggettivo non ha bisogno di essere supportato banalmente noi abbiamo una norma io la chiamo turco napolitano bossifini perché normalmente viene indicata come legge bossifini prima nel 2002 non è stata emessa una nuova normativa in materia di immigrazione è stata parzialmente irrigidita una normativa precedente quindi la chiamo normalmente turco napolitano bossifini è un po' lungo quindi chiamiamola semplicemente 286 del 98 ma banalmente è quella che ha introdotto i centri di permanenza temporanea cioè i centri di identificazione ed espulsione come si chiamano oggi e ha introdotto l'espulsione obbligatoria per tutti i soggetti irregolari sul territorio questo è il contenuto di quella norma al di là di tutto e non funziona non funziona perché il numero di espulsioni strutturalmente è delle espulsioni effettive strutturalmente è molto più basso del numero dei soggetti che arrivano sul territorio e il numero dei trattenimenti è incommensurabilmente più basso e questo ha dei come dire dei requisiti delle falle interne evidenti non so vi faccio un esempio banalissimo se voi pensate che l'anno scorso sul territorio italiano secondo le stime più prudenti che sono quelle di una parte della carita sono arrivati circa 130.000 persone irregolari soltanto quindi 130.000 persone irregolari o 130.000 persone che secondo la normativa italiana avrebbero dovuto essere trattenute in un centro di identificazione di espulsione perché erano irregolari questo dice la legge italiana non dice altro ora per dirvi come come non abbia senso vi dico il numero invece di cittadini italiani e stranieri che sono ogni anno in questo momento detenuti nelle carceri italiane e siamo intorno a 52.000 vorrebbe dire che si sarebbe dovuto costruire un percorso carcerario di detenzione amministrativa quindi di detenzione che sta fuori dalla legalità ordinaria che è circa il triplo di quello ordinario che invece in Italia c'è per i reati correnti tutti i reati che vi potete immaginare quelli normali insomma che vanno dal furto allo spaccio di droga al falso in bilancio aggravato perché quello semplice è stato depenalizzato quindi sono norme che non hanno un valore e una cogenza legale legata all'efficacia cioè al fatto che effettivamente funzioni perché non funzionano da 19 anni e non funzioneranno nemmeno l'anno prossimo fra due anni o fra tre anni hanno però un fortissimo valore simbolico hanno un valore simbolico nei confronti dei cittadini italiani che vengono tra virgolette rassicurati anche da norme ineffettive ma vengono rassicurati che i migranti vengono contrastati efficacemente l'efficacia è un'idea ovviamente ma simbolicamente paga molto e nei confronti dei cittadini stranieri invece ha un altro significato e cioè il significato del semaforo rosso cioè a dire l'Italia non vi vuole questo è il combinato disposto di quella normativa è molto chiara quindi l'inefficacia non ha niente a che fare con il fatto che poi si continuino a emanare norme che sono di criminalizzazione di terziarizzazione del diciamo del conflitto e di esternalizzazione delle frontiere come dire siamo di fronte a uno di quei di quei meccanismi che sembrano assolutamente teste code cioè che non funzionano di strani cerchi ideologici che però in questo momento politico pagano tantissimo pagano tantissimo anche se sono inefficaci quindi io credo che l'opera e una delle opere che noi cerchiamo di fare come associazione con grandissima difficoltà è quella di dire all'esterno cioè di dire effettivamente all'esterno questo e cioè la normativa italiana in materia di immigrazione non funziona e non è una normativa di legalità ma è una normativa di creazione dell'illegalità questo è quello che noi cerchiamo con forza di dire e quindi che in situazioni come queste credo sia molto importante ribadire e dire con forza io vi faccio un esempio poi dopo passo il migrofono che se non lo tengo troppo molto personale fino a qualche anno fa ho accettato qualche volta di andare a parlare a dei festival della Lega Nord che insomma è un bel è un bel impatto ci vuole un bel coraggio eccetera e ok ci vuole un bel coraggio però insomma vabbè mangiavo il panino poi ero un incognito poi mi sedevo e a quel punto usavo due trucchi che davano un risultato il primo trucco era estremamente soggettivo e dovuto alla mia biografia e cioè gli parlavano in dialetto gli parlavano in dialetto milanese e a questo punto già molti dei soggetti da una parte trasecolavano dall'altra parte aprivano le orecchie perché non ero uno di loro serino ovvio in delur sarebbe tradotto in milanese e quindi questo gli permetteva di creare un passaggio che forse può funzionare anche con il Veneto che anche qui insomma ha una bella base sotto quel profilo dall'altra parte invece dicevo una cosa vera e cioè facevo una domanda a tutte le persone che erano lì ed era questa la domanda ma secondo voi se un immigrato ha il permesso di soggiorno no l'ho già sbagliata se un immigrato ha un lavoro può ottenere un permesso di soggiorno se lavora lavora in un'officina dove volete voi se lavora può ottenere un permesso di soggiorno e normalmente la stragrande maggioranza delle persone che erano lì sedute mi dicevano beh certo eh sì sicuramente questo è ovvio e a quel punto io gli dicevo no per la legge italiana no il lavoro bisogna averlo prima del permesso di soggiorno non dopo non è una conseguenza che mi fa ottenere il permesso di soggiorno ma è il requisito che me lo fa concedere quindi tutti i cittadini stranieri che lavorano nell'indotto del nero della logistica delle badanti delle fabbriche tutto quello che volete in quel caso io mi riferivo al territorio più o meno lombardo non può diventare regolare perché la normativa italiana glielo impedisce non non glielo permette glielo impedisce proprio strutturalmente così beh a quel punto anche in un in un ambito del genere le reazioni erano due una parte diceva vabbè tu stai mentendo perché sei un comunista e quindi stai mentendo io normalmente rispondevo no guardate io sono anarchico però questo non incideva moltissimo e fa niente dall'altra parte però molti di quelli che c'erano una buona metà reagiva con una sorta di stizza e diceva vabbè la legge è sbagliata certo che la legge è sbagliata certo che la legge è sbagliata di questo stiamo parlando e questo introduceva un primo principio comunque dialettico e che permetteva poi di andare avanti nella serata e mi permetteva anche di andare a casa dopo insomma però a parte questo però insomma questo è per dire che rispetto al tema dell'immigrazione il principale problema che si interfaccia continuamente è da una parte la mistificazione e dall'altra parte il prestapuchismo assoluto cioè il racconto dell'immigrazione in un modo sempre impreciso sempre costantemente impreciso l'ultimo esempio che vi faccio è la moda dell'ultimo paio di anni di parlare dei migranti in termini di profughi che non si capisce che cosa siano non esistono i profughi per la normativa italiana se vogliamo quindi per la politica perché poi la normativa è la politica i profughi non ci sono o ci sono i migranti economici o ci sono i richiedenti asilo i profughi sono qualche cosa che lavano un po' la coscienza ma non fanno capire niente a chi sta ascoltando e questo è un altro tema questo è anzi magari poi se andiamo avanti ne parliamo ma il tema della mistificazione dell'uso sbagliato delle parole io a questo punto credo che non si possa più ascrivere solo da una parte a imbecillità e dall'altra parte a buona fede semplicistica io credo che si debba dire che c'è una mala fede evidente delle istituzioni e della politica nel parlare di immigrazione perché dopo vent'anni non se ne può dire altro ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti